Ciao, sono Filippo Magnini, la vostra legend di sport e salute. Quest'anno dal 23 settembre al 30 settembre ci sarà la settimana europea dello sport, la più grande call to action per fare sport e muoverci tutti insieme. Io sono l'ambassado della settimana europea dello sport, per me è un grandissimo onore e sarò la vostra guida virtuale. Vi dovrò spronare a fare sport, quindi partecipiamo in tanti a questa settimana, tutti gli eventi che verranno organizzati in Italia e non solo, ovviamente a tema sportivo. Mi raccomando, muoviamoci tutti insieme. Be active!